ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di A Plague Tale In His Hands, capitolo 14, se non erro sono 16 i capitoli però questo tenete conto che dovremmo essere verso la parte finale A me se si perde cercando Hugo, è esausta e buonanotte Ah stiamo seguendo a Nicholas Queste sono le prigioni Oh si prosegue andando di qua Qua c'è un baule di quelli che apro a Missia Ma è particolarmente buio qui dentro Why this? Che cosa devo fare? Andiamo da sotto, vabbè Ecco, questi sono i punti del gioco nel buio, io vi voglio far notare Di quando si vede bene la grafica Quanto si veda bene la grafica Perché Questo gioco è stato criticato L'unica cosa negativa, perché la trama è carina È appunto il fatto Che la grafica sia da In certi momenti da Playstation 3 Comunque Qui devo dire che È abbastanza Accettabile Ma è lui Non possiamo uscire Quello è venuto da qua No, o è venuto da qui Da qui sarà venuto, sì Oh, madonna Eh, non lo posso aiutare il poveretto Qui sono vuote le tre celle Oh Qui c'è un bracere Oh, uno di quei cose che si muove Madonna È qui davanti a me Nascondiamoci Meno male ha avuto la buona Impressione di Rimanermene Lontano da lui Oh Oh La nominata di brutto Oh, Hugo Did they take your blood? Oh my god È mo All right, Hugo Adesso vedremo Be very careful Come back As soon as you have When I return I want everything prepared And ready to begin Do you understand? Yes, Lord Nicholas All right You heard him Everything will be ready The alchemist will talk I'm going to enjoy Just do your job The captain of the guard Doesn't appreciate improvisation Oh, no, 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 no No, pensavo si potesse passare Dai Madonna Santa Eh, non ho fatto molta attenzione Perché non vedo, cacchio Proverò ad andare Alla mia destra C'è una morte A che servono le luci? A che servono le luci? Qua ci stanno i ratti Posso salire appena di sopra? Oh, curioso Che cosa potrei fare qui sopra? Molti indizi In questo livello Mi fanno pensare Che a missia Possa essere Utilizzata Vero? Ma proviamo a vedere di qua Come le devi fare a liberare Queste catene non le puoi toccare È vero I ratti stanno nella gabbia Oh, questo è per le luci Come on Go, quick Go, quick Go, go, go Allora Go away Quickly now The key Ok Le guardie se ne sono andate Ma la stanza si è riempita Ecco cosa serviva alle luci Servivano alle luci A spostare i ratti Infatti Le chiavi i tipi ce le hanno là dentro Ok Bene Bene Dovrebbe essere giusto No, 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 no Proprio adesso Mamma mia Mi hai fatto spaventare Hugo Il problema è adesso Come torno là Come cazzo devo fare Come devo fare E si riempie di là E non va bene così Madonna santa Boh Ragazzi io Io non lo so Non sono sufficienti Le lanterne Proviamo a fare così Questa lanterna Teniamola così Almeno posso camminare E questa così Non riesco ancora a passare Vaffanculo Proviamo ancora Forse ho risolto Forse ho risolto Oh Alleluia Ben Bene It's all right No one will hurt you now My hero How do you feel Your head It talks to me All the time now And what does it say It says It wants me to join it The first threshold Tommy I'm scared We'll never get out of here We don't have a choice If I am with you The voice Are you ready to reply Madonna Ugo Can you hear them? Yes They all have The same voice Madonna The one that Which my head hurts Don't try to ignore it Embrace it completely Don't be afraid Yes Ora Ugo può controllare i rat Rimprimuto l'E2 per mirare Quindi rimprimuto l'E2 per richiamare i rat Nella zona prescelta E cosa devo fare quindi? Everything is all right Now You're going to tell them to move So we can get out Go on But stay focused Or they'll Well done You see? My headache's gone It was the mug you left But you answered it Let's get going Ok Posso controllare i rat They must have let the rats loose on the prisoners again Come on Find this document and get out of here A cat? A cat No 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 It's not a game This power is dangerous You have to control yourself Yes Yes Mamma So That's what it is You're not sick Hugo It's It's a gift I'll explain later A gift Un dono Mamma mia Mo mi sento molto Con i superpoteri No Il prigioniero Io lo volevo liberare E io lo vorrei aiutare al tipo Scusa avevi preso le chiavi delle celle Non lo apri Ma sei stronzo Hugo Cattivo bambino Non si fa Quello è Nicolas Oh è qua Ah da qua Da dove eravamo venuti Sì sì Wow Bellissima sta qua What are the rats doing here What the hell happened? What the hell happened? Hmm Ratti a me Gli passiamo da dietro al tipo Via, lontani Lontani da me Io sono il vostro padrone Io vi comando Oh Come li sposto i ratti C'è luce, non si può Ratti, ratti, black rats Fuck, help Well done Yes, rats What the hell did they do to them? They make them eat people's blood Really? Yes, it's strange I can feel the black rats But not these ones I see We need to find a way to get out of here Gli hanno guariti praticamente Allora, adesso Com'è la situazione qua? Ok, stiamo nella luce Bene Questo è un carro No, non è Questi carri Non si può mai entrare dentro, eh Però mi manca ancora Un carro degli alchimisti da vedere Ancora Ma è un mare qua di ratti Ovunque sta Hanno invaso tutta Non prendendo attenzione a me Mami Why do I know how to do this? It's It's the blood that decides It's complicated to explain But Amicia doesn't know C'è bisogno di camminare In questa maniera Quando è tranquilla La cosa, no? Bah, vabbè Loro devono camminare così Perché gli piace così Oh no Ecco Ecco I know what you have done to him You have taken what you wanted Now let him go Oh, you insult me, Madame de Rune Your son Is the natural carrier of the macula And it has not yet finished with him Which means Neither have I But this you know Vitalis Let us finish this Nicolás You cannot understand You feel it as I do Do you not, boy? We are bound by blood now What do you think, Hugo? Your family grows larger, huh? I beg of you I promise to help you But allow my son to leave His destiny is not To be at the ruin His destiny Is to be here At my side You are a monster A monster Madame You have yet to see Just how Oh, madonna Mol libero unirà Ecco qua Bella sta cosa Coraggiosi Tipi a benimentare Coraggiosi Tipi a benimentare Let me go Hugo, listen to my voice You have to It's a reward for him Who kills her This is wrong The prima macula It's reacting Continue Stop torturing him I'll tell you everything You want to know It's fooling Come on The child is weakening Yes Devour them The threshold awaits you Fast to the other side No, Hugo, don't listen Come to me I'm ready to die My son, don't forget him now Un'arciera Mamma mia That's enough Hanno sacrificato tutti Hugo, can you hear me? Tutti quei soldati He's powerful But he has not reached The threshold As we'd hoped Do you know why? Amicia It's Amicia How tiresome But he's close now And we have other pawns We can play Take her away Leave him alone What else do you want? A lot more So much more And you will stay here with me To make sure we get it Do not worry, Hugo I have complete faith in you We shall succeed Oh Wow Che capitolo Bellissimo Sto capitolo Molto importante Il capitolo 15 Si chiama ricordo Vabbè Bene Io credo che terminerò Qui ragazzi Questo video È stato molto Interessante Un attimo Che almeno Arriviamo all'inizio Del prossimo Perché devo salvare Devo aspettare che salvi In automatico Oh Amicia Amicia She's awake Stay calm Amicia Hugo Shh Arthur and I tracked you down But You disappeared for three days Amicia You almost died We were so worried Hugo Leave me alone Ah Addirittura Come on Stop dreaming The others must be up The rats will be coming We need to light the fires Ok Bene ragazzi Siamo Mi sembra Al penultimo capitolo Del gioco Ebbene E finisce qua Questo video Ci rivedremo Presto Con Altri video Sia su questa serie Che sulle altre Che sulle altre